Vai tornare il portiere di questa formazione che si può dire un po' la rivelazione del campionato? Certo, certo, una bella rivelazione. Per noi tutti come giocatore di società è un'esperienza nuova. Ci stiamo comportando veramente molto bene. Spogliatorio, spirito di squadra, un bel gruppo per quello che gli stanti stanno vendendo. Sicuramente il gruppo, come in tutti gli sport, è sociale. E qua c'è proprio un gruppo unito sia nelle ritorie che nelle sconfitte. Dunque, questa è la nostra base di fondo. Tu sei uno dei vicentini di questo gruppo, è un'esperienza bellissima in Serie 1. Sì, la mia prima esperienza in A1 è una categoria così prestigiosa. Ne vanno fiero, come i miei compagni. Speriamo di continuare così e di portare l'altro, non magari su tutte le città. Affetto.